Il merito va non fatta una tragedia, analizzata come le vittorie, va analizzata la sconfitta. Sì, ci sono dei meriti del Bologna ovviamente, noi dobbiamo imparare a fare tesoro anche degli errori, di situazioni diverse che ci possono capitare e magari questo schiaffo ci farà bene. Nella vittoria, anche nella sconfitta bisogna cercare sempre di avere un equilibrio, di analizzare dal punto di vista tattico e tecnico quello che è successo e basta. La Coppa Italia è una competizione assolutamente importante, è un'opportunità anche per chi ha giocato meno probabilmente di farsi vedere, ci teniamo e proveremo a vincere sicuramente.